2.000 persone a Fagagna per l'addio a Daniele, 16enne morto nell'incidente con coinvolto altri 7 minorenni. Per lui i fiori gialli, ricordo commosso degli amici e il vecchio motorino del nonno. Un 76enne di previsdomini è finita nei guai dopo un tamponamento Vittorio Veneto. Aveva ragione lei, ma la polizia locale ha scoperto che guidava da 50 anni senza aver mai conseguito la patente. Il movimento delle sardine si sta organizzando anche in Friuli Venezia Giulia. La prima manifestazione è sabato 30 novembre. Il governatore Fedriga va già all'attacco, ironizzando in una diretta Facebook. Posizionato pochi giorni fa, è già stato rimosso l'albero di Natale donato al comune di Udine. L'amministrazione non voleva uno spelacchio come a Roma, così davanti al municipio ora c'è solo la base di sostegno. Il comitato regionale della FIGIC spiega la scelta dell'epifania per i recuperi della giornata persa per il maltempo. Volendo giocare di giorno era l'unica data possibile. Buonasera e benvenuti con l'informazione serale di Telefriuli. Iniziamo dai funerali, dall'ultimo saluto oggi a Daniele a battaglia di Fagagna al sedicenne, che ha perso la vita in un fatale incidente stradale che ha coinvolto sette minorenni. Commovente ricordo dei compagni e degli amici che hanno partecipato alla messa funebre con foto, fiori e un vecchio motorino Garelli che il sedicenne stava riparando. Sentiamo. Grande commozione questo pomeriggio per l'ultimo saluto a Daniele, sedicenne di Fagagna, che ha perso la vita in un tragico incidente stradale nel fine settimana. Incidente che ha coinvolto anche altri sette minorenni, tutti i suoi amici. Un migliaio le persone che hanno raggiunto la piccola chiesa dedicata ai Santi Pietro e Paolo, a battaglia di Fagagna dove vive la famiglia del giovane. L'omelia è stata pronunciata da Don Giorgio Fabro, anche parroco di Fagagna, che ha concelebrato la messa funebre insieme al direttore del Bearzi, Don Filippo è sacerdote che segue i giovani di questo istituto. Tantissimi ragazzi, compagni di classe, gli amici che hanno partecipato alla cerimonia funebre con un fiore giallo in mano. Giallo, simbolo di luce, la luce che accompagnerà per sempre Daniele nei loro cuori. Tante anche le rose bianche, come quelle del cuscino adagiato sul feretro al centro della piccola chiesa di battaglia, commoventi le parole dei suoi amici che l'hanno ricordato come persona speciale, come amico unico, sempre in grado di farli sorridere. E l'associazione Genitori in azione di battaglia ha realizzato un braccialetto con il suo nome, a memoria di questa tragedia, perché non debba più succedere. E sul sagrato della chiesa anche il motorino del nonno del sedicenne, nascosto nel granaio ma recuperato e rimesso in azione proprio dal giovane Daniele, un appassionato di motori. Poi l'ultimo saluto nel piccolo cimitero, retrostante la chiesa. Parliamo ora di maltempo, con la conta dei danni, danni che sono pesantissimi. Non è stata una passeggiata ma il sistema ha tenuto. Queste le parole del vicepresidente del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi, quale auspica che il Governo consenta alla Regione di intervenire sul territorio con lo stesso sistema adottato per Vaia. Sentiamo. A poco più di un anno da Vaia, la Regione si augura che il Governo agisca nello stesso modo per poter affrontare le criticità causate dai nubi fragili di questi giorni. Adesso aspettiamo il decreto del Governo, dentro lì ci saranno le condizioni. Io mi auguro che siano la riproposizione del modello Vaia, quindi il decreto, le risorse, il commissariamento affidato al Presidente della Regione in uno schema che credo abbia dato i risultati che tutti conosciamo rispetto all'esperienza di un anno fa, che è stata molto più consistente, anche se questa con 500 mm in alcuni giorni non è stata una passeggiata. Però il sistema ha tenuto, quindi vuol dire che gli investimenti che abbiamo fatto hanno reso quello che dovevano poter garantire e noi intendiamo proseguire anche con il viaggio di oggi. Abbiamo visto che ci sono ulteriori cose da fare, quindi se il Governo non ce lo consentirà noi continueremo in quella direzione. Sopraluogo in mattinata per il Governatore Federica e il Vice Riccardi, nelle zone colpite dal maltempo, a grado varie le criticità, non ultimi i lavori in Laguna. Sentiamo. Sopraluogo nelle zone colpite dal maltempo per il Governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Federica, per il Vice Riccardo Riccardi e per i dirigenti regionali della protezione civile. A rappresentare il Comune di Grando il Vice Sindaco Matteo Polo, in quanto il Sindaco Dario Raunia si trova ad Arezzo, al Congresso Nazionale dell'Anci, anche in qualità di delegato per il Friuli Venezia Giulia. Varie le criticità rilevate dai numerosi danni in città fino alla Laguna. Permangono ad esempio le problematiche per il riprestino dei canali in Laguna e gli accessi ai casoni. Noi l'abbiamo già segnalato a livello nazionale, ovviamente la normativa ambientale, principalmente a carattere nazionale e quindi abbiamo segnalato che una normativa così stringente in realtà non tutela l'ambiente, ma anzi rischia di danneggiarlo perché non si possono mettere in campo gli interventi necessari, non soltanto per tutelare le attività produttive, ma per tutelare lo stesso ambiente. Quindi mi auguro che ci sia questa sensibilità perché altrimenti quando si diventi tale mani ambientalisti, il primo a rimetterci è l'ambiente. L'abbiamo visto anche con Vaia, dove c'era chi diceva che non si possono sgagliare i fiumi, che non si possono sgagliare i laghi, che non si possono tagliare l'alberi nei boschi. Il risultato è stato che dopo Vaia i primi a rimetterci sono stati boschi, fiumi, laghi e territorio. Abbiamo bisogno di una semplificazione, di una modifica della normativa ambientale, la 152 del 2006. Stiamo cercando attraverso tutta la sinergia possibile con le istituzioni di riportare il nostro paese ad uno stato di normalità e anche approfittando di questa brutta calamità naturale di fare quegli interventi che da anni ci sono preclusi. Ciò che il mare, l'acqua alta e le mareggiate tolgono in poche ore, in pochi giorni, l'iter che noi dobbiamo percorrere per rimettere in pristino le nostre infrastrutture è di numerosi anni. Presto sarà aperto un tavolo operativo tra Regione e Comune di Pordenone per capire opere e finanziamenti necessari per mettere in sicurezza il capoluogo dal punto di vista idraulico. Nei prossimi giorni sarà convocato un tavolo operativo ad hoc per capire quali sono le opere da fare e i soldi che servono per garantire la sicurezza idraulica di Pordenone. Lo hanno annunciato in una nota congiunta il Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, il Vice Presidente Delegato alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi e il Sindaco della città sul Noncello, Alessandro Ciriani. Della questione si era già parlato durante il sopralluogo di Riccardi, atterrato in elicottero nel parcheggio della Fiera di Pordenone lunedì mattina dopo aver visionato il territorio cittadino interessato dall'allerta meteo. Durante l'incontro con Ciriani, l'assessore Cristina Mirante e il responsabile della Protezione Civile e Cittadina Andrea Brusadine, il Vice Governatore aveva assicurato che per il prossimo anno la Regione avrebbe messo a disposizione del Comune i finanziamenti necessari per la sistemazione della zona della Comina, in particolare di Via delle Villotte, 250 mila euro, e per la realizzazione di sgrigliatori automatici degli impianti idroveri di Valenoncello, 380 mila euro. Ringrazio Federica Riccardi, ha detto Ciriani, per la massima attenzione a Pordenone, la disponibilità a individuare le opere necessarie, complementare a quelle esistenti e mettere le risorse. E ora andiamo a Palmanova, dove le lunette napoleoniche si sono trasuonate in un vero e proprio lago. Vediamo. Questo che vediamo alle nostre spalle è un lago, un lago che normalmente non dovrebbe esistere. Sicuramente questa è una situazione un po' insolita e particolare, perché le piogge chiaramente intense hanno creato queste situazioni. qua si sta riversando gran parte dell'acqua che c'era nei campi, frutto di un corso d'acqua che è tracimato. Sicuramente questo comporta danni a quello che è il patrimonio architettonico di Palmanova, perché chiaramente le piogge vanno a, prima di tutto, a riempire d'acqua i terrapieni e quindi spingendo sulle pareti dei bastioni creano spesso dei crolli. Questa è una situazione insolita, ma sicuramente due o tre giorni delle fondamente, delle mura, delle lunette napoleoniche immerse nell'acqua, chiaramente creano situazioni che poi nel tempo ritroviamo con degli stacchi delle parti murarie che vanno sicuramente ricostruite. Questa è ancora zona militare, perché fa parte del Museo Storico Militare. Su quest'area abbiamo già deciso, il Comune insieme alla Soprintendenza, per investire circa 3 milioni di euro per intervenire proprio sulle lunette, sulle due lunette napoleoniche. E certamente se si creano queste situazioni, e si creano, dico, purtroppo sempre più spesso, viste le condizioni meteorologiche, chiaramente poi le risorse che serviranno saranno risorse più ingenti rispetto a quelle che ci sono state concesse dallo Stato. Un uomo di 53 anni di Villotto di Chions, Flavio Favaretto, è stato trovato morto questa mattina a poca distanza dalla sua casa di Villotta, in un canale. Non è chiaro se sia stato investito mentre pedalava in sella la sua bici o se sia finito nel fosso per un malore. Sarà l'autopsia a fare chiarezza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Azzano X per tutti gli accertamenti. La bicicletta è stata posta sotto sequestro. Ed è morto ieri sera. Il ciclista ha investito nei giorni scorsi da un pirata della strada, Felletto Umberto. La vittima dell'incidente stradale, dopo giorni di agonia, si è spento ieri notte. A nulla sono servite le cure dei medici dell'ospedale di Udine che hanno provato l'impossibile per tenerlo in vita. Il responsabile del sinistro è stato individuato ieri mattina dai militari dell'arma. Si tratta di un 81N di Pasandi Prato domiciliato a Tavagnacco. Ora dovrà rispondere di omicidio stradale oltre che di omissione di soccorso. Posta sotto sequestro la Fiat Panda che guidava. Si è svolto questa mattina dalle 10 fino alle 11.30 un controllo antidroga nella scuola Bonaldo Stringer di Udine da parte dei carabinieri del NORM della Radiomobile della Compagnia di Udine con i carabinieri cinofili. In accordo con la dirigenza sono state ispezionate sei aule per la ricerca di sostanze stupefacenti. È stato trovato uno spinello abbandonato durante la recreazione. Per il resto i controlli sono risultati per fortuna negativi. Tra le finalità dell'arma è anche quella di prevenire e riprimere fenomeni legati al consumo e allo spaccio di stupefacenti nelle scuole del territorio. E ora veniamo al singolare episodio accaduto a una 76enne di Pravis Domini che è finita nei guai dopo un tamponamento a Vittorio Veneto. Per quanto riguarda l'incidente la donna aveva ragione. Il problema è che da 50 anni non aveva praticamente conseguito la patente. L'hanno scoperto la polizia. Vediamo. È stata tamponata e quindi sarebbe stata dalla parte della ragione ma a finire nei guai è stata proprio lei. Guidava da sempre senza patente. Il protagonista della vicenda è una donna di 76 anni di Pravis Domini la cui vettura è rimasta coinvolta lunedì mattina in un incidente in via della Vallata in località Longhere a Vittorio Veneto. Dal punto di vista dei danni lei non avrebbe avuto alcuna colpa in quanto la sua automobile in procinto di svoltare a sinistra è stata colpita da un altro automezzo a sua volta tamponato da un autocarro. Durante l'incidente nessuno è rimasto ferito ma purtroppo per la signora la polizia locale è intervenuta per i rilievi del caso. Il problema è nato quando gli agenti le hanno chiesto di esibire la patente. Lei ha cercato di giustificare il mancato possesso del permesso di guida ma già dopo pochi minuti da un controllo effettuato dei vigili intervenuti sul posto è emerso che la patente non l'aveva mai conseguita. A quel punto alla polizia locale non è rimasto che sottoporre l'automobile a fermo e combinarle la sanzione amministrativa del caso. Stando al codice della strada la multa va da un minimo di 5.110 euro ovvero la misura ridotta a un massimo di oltre 30.000 euro. Miniamo ora alla politica. Anche il Friuli Venezia Giulia la prossima settimana si trasformerà in un mare pronto a ospitare migliaia di piccole sardine umane. Una a casa lingua, il 56enne di Bisco, Norina Tiusi, dopo aver aperto il gruppo Facebook le sardine Friuli Venezia Giulia nel giro di 24 ore è stata subissata da oltre 6.000 richieste di iscrizione a tal punto che si terrà una manifestazione in Friuli Venezia Giulia sabato 30 novembre e sarà come da prassi rigorosamente priva di comizi e di musica. Ancora ignota la piazza che ospiterà il raduno antileghista anche se il dubbio sembra essere tra Monfalcone o Palmanova luoghi più baricentici rispetto a Udine e Trieste. Ho seguito i flash mob di Bologna e Modena e mi sono detta che era un peccato non fare nulla in regione, ha spiegato la referente del Movimento regionale sottolineando di non essere né una simpatizzante di sinistra né di destra ma solo una simpatizzante del Movimento Gentonesta nato a Milano e fondato dal Cavaliere Giuseppe Prete. La molla che mi ha fatto scattare questa repulsione antileghista ha poi aggiunto è avvenuta con il Conte 1 a livello nazionale mentre la regione con la chiusura del punto nascita di Palmanova è la riforma sanitaria presentata poche settimane fa. Una sardina in meno è un pezzetto in più di libertà a dirlo in risposta il presidente della regione Massimiliano Fedriga che in una diretta Facebook questo pomeriggio è rionizzato sul Movimento delle Sardine. Riprendendo quanto sostenuto dal giornalista Antonio Socci Fedriga ha invitato a fare una riflessione. In quale paese vengono fatte manifestazioni di piazza contro l'opposizione per impedire di parlare? Socci dice che di solito questo avviene nei regimi. Secondo il governatore iniziative come questa non sono spontanee ma pompate dai grandi mezzi di comunicazione. Fedriga ha citato il fatto che uno dei leader delle Sardine collabora con un giornale il cui garante è Romano Prodi è legittimo che ci si impegni in politica ma si dica la verità non è un movimento spontaneo. C'è qualcosa che nel Movimento delle Sardine mi fa arrabbiare ha aggiunto il presidente quando uno dei leader dice basta slogan su Bibiano io invece dico basta abusi sui bambini Bibiano è una vergogna nazionale noi in Friuli Venezia Giulia abbiamo disposto risorse per proteggere i bambini. Andiamo ora nel capoluogo friulano a Udine dove mancano meno di due settimane dell'avvio della raccolta differenziata casa per casa e le polemiche non si sono certamente placate. In alcuni casi oltre ai problemi di posizionamento dei bidoncini in casa si somma anche quello dello spazio in strada è il caso di via Potgora dove sono oltre 300 le famiglie e dove quindi ogni giorno sarebbero centinaio bidoni a occupare marciapiedi e parcheggi. Andiamo a vedere. 300 e più bidoncini in meno di 100 metri di strada. È un caso limite certo ma è quello che potrebbe accadere dal 2 dicembre in via Potgora laterale di via Venezia nel cuore della seconda circoscrizione. Infatti su questa strada insistono tre maxi condomini da 60, 70 e 180 appartamenti ciascuno facendo schizzare alle stelle il numero di bidoncini porta a porta che riempirebbero completamente i marciapiedi della via con nei giorni di doppia raccolta fino a 600 contenitori per le immondizie lungo i muri e i parcheggi della strada. E proprio per l'altissima densità abitativa questo problema si somma alle difficoltà per gli anziani di portare la spazzatura in strada ad orari prestabiliti e al posizionamento dei bidoncini negli appartamenti in molti casi anche mini o bilocali. Purtroppo non abbiamo avuto un'informativa neanche da parte del nostro amministratore è stato sollecitato, gli è stata inviata la PEC quindi praticamente c'è stato un silenzio totale perché ci sono anche tanti monolocali che non hanno una terrazza, non hanno magari una cantina e quindi devono adesso scegliere se tenersi il tavolo dove mangiare, pranzare, cenare oppure tenersi dei bidoni dentro in casa. Noi non abbiamo avuto il tempo necessario per poter decidere dove mettere 14 cassoni che dall'oggi al domani ci sono stati proposti. Il problema di via Polgoro è un problema serio in quanto si tratta di una via stretta, corta e non è certo un corso. Ci sono delle residenze che non hanno nemmeno la cantina essendo monolocali e quindi monolocali di 30 metri quadri io sfido chiunque riesca a posizionare 5 bidoncini che non sono neanche piccoli ma sono relativamente grandi. Chiediamo quindi che ci siano dei bidoni condominali e chiediamo che non si metta in pericolo, in progiudizio sia l'estetica della città che si troverebbe invasa dalle immondizie sia poi l'incolumità di terzi sia anche la possibilità di usufruire del proprio immobile e quindi della propria casa. E questa mattina a verificare la situazione c'era anche il direttore generale della NET Massimo Fuccaro che ha chiarito come in casi simili l'unica soluzione siano i bidoni condominali ma che la scelta aspettava, in questo caso, agli amministratori. In questo tipo di situazione è quello che consigliamo noi e che l'amministrazione consente è quello di avere i cassoletti condominali perché è palese, sono 300 unità abitative diciamo una media di due persone per appartamento che sono di più, parliamo di un paese quindi parliamo di mille persone quindi è improponibile. Da giugno a oggi evidentemente molti amministratori sono riusciti a organizzare infatti noi stiamo distribuendo adesso cassoletti condominali evidentemente c'è un gruppetto di amministratori che magari ha ritenuto la chiave di lettura non la conosco il fatto sta poi cerchiamo di andare nel concreto secondo noi adesso abbiamo fatto un minimo sopralluogo abbiamo visto che la situazione ideale è cassoletti condominali tra l'altro c'è anche lo spazio qua quindi io non vedo problemi da questo punto di vista e ritengo che quello che è stato espresso adesso sia assolutamente condivisibile sono appartamenti piccoli, 5 bidoncini anche perché i cassoletti condominali risolvono i problemi di cui parlavo le persone anziane che possono conferire anche 4 volte al giorno sacchettini piccoli sono identici a quelli stradali di fatto solo che sono più controllati, più piccolini e quindi secondo noi in questo tipo di situazione cassoletti condominali quindi in questo caso il problema potrebbe essere stato una mancata informazione corretta? sì evidentemente l'amministratore non ha ritenuto di chiedere ai condomini e nel frattempo Udine si conferma uno dei capoluoghi italiani più economici nello smaltimento dei rifiuti mantenendo anche per quest'anno il secondo posto a livello nazionale a dichiararlo è il sindaco di Udine Pietro Fontanini commentando i dati dell'osservatorio sui prezzi e le tariffe dei rifiuti per il 2019 di cittadinanza attiva anche per quanto riguarda la media della raccolta differenziata prosegue il sindaco rimaniamo abbondantemente sopra il dato nazionale pur a fronte di un leggerissimo calo che va preso come uno stimolo per migliorare ulteriormente condizione necessaria se vogliamo fare qualcosa di concreto per l'ambiente e la nostra qualità della vita ed evitare nei prossimi anni un aumento consistente delle tariffe in questa direzione va l'introduzione del sistema di raccolta casa per casa che riteniamo rappresenti per Udine l'occasione per fare quello scatto in avanti che manca per conquistare il primo posto tra le città più economiche per diventare un modello a livello nazionale nella qualità della raccolta differenziata conclude lo stesso Fontanini posizionato e poi rimosso l'albero di Natale donato dal comune di Forni a Voltri Udine non vuole essere da meno di Roma vi ricordate infatti il caso di Spelacchio l'albero di Natale con pochi rami in pessime condizioni poi è diventato fonte di tante polemiche e prime pagine dei giornali ebbene una situazione simile con epilogo però diverso è avvenuta questo pomeriggio vedete le foto le immagini nella capitale nel capoluogo friulano il secondo abete donato dal comune Carnico non è piaciuto all'amministrazione tanto che ne ha chiesto subito la rimozione e la sostituzione l'allestimento e repentino smontaggio sono venuti questo pomeriggio in piazzetta del Leonello di fronte all'ingresso di Palazzo d'Aronco in attesa di una pianta più in salute al momento è presente solamente la base di sostegno Economia con Fincantieri che ha fermato un memorandum d'intesa da 300 milioni di euro per le progettazioni e costruzioni di due navi da crociera di lusso di piccole dimensioni di nuova generazione per l'armatore francese Ponant La consegna è prevista nel 2022 e saranno realizzate dal network produttivo del gruppo Vard e avranno una stazza lorda di circa 11 mila tonnellate ospitando a bordo circa 230 passeggeri L'accordo prevede un'opzione per un'ulteriore unità gemella La finalizzazione del contratto è subordinata alla definitiva messa a punto degli aspetti finanziari e tecnici dell'accordo La conferma della collaborazione con un operatore vivace come Ponant con il quale arriveranno a 13 le unità complessive per un progetto di nuova generazione fortemente ispirato alla tutela dell'ambiente non può che essere accolta con grande soddisfazione ha commentato l'amministratore delegato dei Fincantieri Giuseppe Bono Ultiamo decisamente pagina batte ogni record l'edizione 2019 di Teleton con presenza il sabato 30 novembre a partire dall'ora 15 di 660 squadre per ben due volte gli organizzatori hanno dovuto riaprire le iscrizioni escludendo comunque diversi team per motivi di sicurezza proprio per il gran numero di iscritti e per la chiusura di via Mercato Vecchio il percorso è stato ridisegnato e allungato andiamo a vedere Saranno 660 le squadre che il prossimo sabato partiranno al via della ventunesima edizione della staffetta 24 per un'ora di Teleton è il record per la città di Udine superando di oltre 100 squadre il record di iscrizioni precedenti tanto che per permettere la corsa alle decine di migliaia di podisti che correranno in favore della ricerca il percorso è stato allungato risolvendo così anche la chiusura di via Mercato Vecchio Ha sorpreso anche noi va al di là di ogni più ottimistica previsione pensavamo l'anno scorso di aver già raggiunto i limiti massimi con 550 squadre oltre 13.000 atleti partecipanti invece quest'anno siamo arrivati al punto di non essere in grado di accontentare tutti abbiamo allungato il percorso a oltre 1800 metri dai mille originari del percorso e tutto questo per cercare di soddisfare tutti i partecipanti purtroppo non ci siamo riusciti come ogni manifestazione importante perché importante sta diventando questa manifestazione qualcuno non sarà in condizione di poter partecipare perché abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni e la scelta è stata quella di spostare il baricentro su piazza Primo Maggio dove ci sarà una sorta di villaggio di teletone dove ci saranno tutte le squadre i gazebi l'arrivo la partenza e quindi in piazza Primo Maggio si creerà il cuore diciamo della vita della manifestazione Volendo evitare l'orario serale 6 gennaio l'unica giornata possibile parliamo di sport il comitato regionale della fisici spiega la scelta dell'epifania per il recupero delle gare non disputate per il maltempo Inutile nascondersi a molti non è piaciuta l'idea di giocare il 6 gennaio il comitato regionale della FGC intende quindi fare chiarezza sui tre punti fondamentali che hanno portato alla decisione di fissare per quel giorno il recupero dell'intera giornata rinviata si è deciso di scegliere un giorno infrasettimanale festivo per evitare la disputa delle gare in orario serale e al termine di una giornata per tutti lavorativa con temperature di certo più basse rispetto all'orario dell'epifania fissato per le 14.30 alle società è stata comunque concessa con 48 giorni di anticipo rispetto alla data prevista la facoltà di accordarsi per anticipare la propria gara in una ritenuta più opportuna una condizione insindacabile del regolamento vieta inoltre la disputa di gare prevista nel girone di andata oltre il termine dello stesso motivo questo per cui non è stato possibile recuperare la giornata rinviata domenica scorsa il prossimo 8 marzo l'eventuale slittamento di tutto il campionato ripartendo domenica 24 da le gare in programma domenica 17 avrebbe inoltre penalizzato tutte le società costrette a fare i conti con le varie concomitanze dei campi da gioco e reso non veritieri i calendari è stata scartata da subito la data del 5 gennaio in quanto nello stesso giorno infine è in programma la finale della Coppa Italia di eccellenza sui social c'è chi commenta che a quel punto sarebbe stato meglio spostare la finale il 6 gennaio e giocare tutte le altre gare il 5 c'è chi ritiene che i campionati dovrebbero cominciare prima per dare maggiori possibilità di gestire questi problemi e ci sono anche coloro che invece ritengono che sia meglio il 6 gennaio piuttosto che un'ivra settimanale un'epifania dunque che si porterà via le feste ma non le polemiche l'Udinese ha scelto di proseguire con Luca Gotti ma Zenga resta alla finestra l'allenatore ipotesi più credibile di tutte nel totonomi scoppiato dopo le due sconfitte consecutive costate la panchina a Tudor ha parlato a Sport Italia dicendo se mi dovesse chiamare una società come l'Udinese farei un enorme sorriso e ci andrei subito non servirebbe neanche pensarci il tecnico si è spinto anche più in là dicendosi addirittura pronto nel caso a trovare una soluzione all'eventuale partenza di De Paul se l'argentino fosse ceduto all'Inter la società prenderebbe certamente provvedimenti per far sì che ce ne sia un altro magari c'è un giovane pronto da lanciare non sono aziendalista mi reputo una persona competente bisogna trovare soluzioni e non farsi sopraffare dei problemi conosco Cristante e so che ci sono profili interessanti anche in primavera questa era anche l'ultima notizia io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro una buona serata sempre su Telefriuli arrivederci Grazie a tutti